Il Monte Cervati, sempre più meta di turismo escursionistico, è spesso vittima di gesti irresponsabili come l'abbandono di rifiuti di vario genere. Di recente è stata trovata immondizia nell'area antistante il rifugio Casa Rosalia, che da anni rappresenta un presidio a tutela di tutta l'area grazie ai gestori impegnati anche in attività di conservazione e sensibilizzazione. È bastata qualche settimana di chiusura perché qualcuno si sentisse libero di dare sfogo alla sua ignoranza. Ne danno notizia gli stessi gestori che esprimono rammarico per l'accaduto. Passerà ancora qualche settimana prima della nostra riapertura, dicono, e purtroppo la nostra assenza in montagna si fa spiacevolmente notare. Ringraziamo gli imbecilli che hanno ben pensato di rompere la staccionata e lasciare i loro rifiuti. Nessun danno alla struttura, la cosa pessima, sono proprio i rifiuti abbandonati. Il problema è che molti escursionisti si aspettano che in montagna siano raccolti dai comuni competenti, ma è un grave errore. I rifiuti, sottolineano, devono tornare a balle. Sarebbe necessario non produrne di inutili, tipo la plastica. Tutti quindi possono fare la propria parte per contrastare un fenomeno molto più diffuso di quel che si immagini. Basta seguire delle semplici regole per camminare in montagna senza lasciare tracce del proprio passaggio, con desolanti spettacoli per chi quei luoghi li ama e li rispetta come i ragazzi del rifugio, che in queste settimane sono stati costretti anche a chiudere il bivacco adiacente alla loro struttura, sempre a causa di persone irrispettose delle cose altrui e del territorio. Lo abbiamo aggiustato, pulito e ripulito per poter garantire a tutti gli escursionisti del Monte Cervati un appoggio gratuito dove dormire o mangiare. Purtroppo, in seguito ad una frizione poco civile, hanno annunciato ci troviamo costretti a dover regolamentare l'accesso predisponendo la chiusura del locale di emergenza. Chiunque voglia usufruirne può presentare richiesta al Comune di Piaggine per ottenere le chiavi. E' chiaro a questo punto che la loro presenza far da deterrente all'inciviltà, le cui conseguenze ricadono sui tanti escursionisti rispettosi che vivono la montagna, rispettandola e rispettando chi si impegna a preservarla.